Adesso cambiamo argomento, parliamo di rapporti tra cittadini ed istituzioni, arriva anche a Pisa lo sportello per i contatti diretti col direttore civico regionale, una figura al servizio del cittadino a volte troppo poco conosciuta. Attivato anche a Pisa lo sportello decentrato del difensore civico regionale, il primo contatto per mettere a disposizione sul territorio i servizi dell'ufficio che tutela diritti e interessi dei cittadini nei rapporti con le amministrazioni pubbliche che operano in Toscana e con i privati che gestiscono pubblici servizi. Abbiamo constatato che il difensore civico regionale non è conosciuto nei territori provinciali della regione, questa quarta tappa serve per interloquire, far conoscere il difensore civico al sistema delle associazioni dei consumatori, alle amministrazioni locali e questa tappa è finalizzata come le tre precedenti al perfezionamento di una convenzione con l'amministrazione provinciale di Pisa, già siglata, firmata digitalmente, per divenire alla costituzione di uno sportello decentrato presso la provincia di Pisa del difensore civico regionale. Lo sportello decentrato di Pisa avrà sede presso l'amministrazione provinciale e si avvarrà del personale dipendente dell'ente per raccogliere segnalazioni, aiutare il cittadino a compilare la necessaria documentazione e quindi prendere contatti con l'ufficio regionale. La provincia farà da sportello, uno sportello che ospiterà nel proprio palazzo affinché i cittadini possano innanzitutto avere questa prima interfaccia proprio sulla provincia di Pisa, quindi sul territorio, capire effettivamente quali sono le funzioni, le modalità con le quali accedere al difensore civico e quindi poter usufruire di questo servizio.